Dare la possibilità ai turisti che sbarcano di poter usufruire di una rete wifi, rendere realmente appetibile e utile l'app Visit Salerno, avere mappie a disposizione per poterle dare e distribuire ai turisti. Sono alcune delle proposte che il presidente di Federalberghi, Antonio Ilardi, ha avanzato durante la riunione della Commissione Annona al Comune di Salerno, nella quale, con la rappresentante di Confguide, ha offerto la disponibilità di effettuare visite gratuite per i croceristi che arrivano a Salerno. Ilardi, da poche settimane eletto al vertice dell'associazione che rappresenta gli alborgatori, è reduce anche dal direttivo della sua associazione, nel corso della quale ieri si è deciso anche di chiedere chiarimenti alla GESAC sullo stato dei lavori dell'aeroporto Costa d'Amalfi di Salerno. Siamo stati convocati nella Commissione Consiliare del Turismo e ci è stato chiesto un supporto su questa materia. Abbiamo quindi stanziato un piccolo budget ed intesa con Confguide ci siamo resi disponibili a sostenere alcune visite guidate della città perché siamo convinti che questa città possa dare tanto in termini di valorizzazione delle risorse culturali e questo possa consentire sia una migliore fruizione della ricettività cittadina che una migliore fruizione delle strutture commerciali che sono attestate intorno al centro storico. In questa direzione vanno anche una serie di proposte che come Federalberghi lei ha presentato al tavolo del Comune di Salerno per migliorare in generale l'accoglienza dei turisti. Noi riteniamo innanzitutto che vada più presto programmata e realizzata una wifi free zone nel centro storico perché i turisti possano orientarsi con i loro apparati cellulari. Riteniamo che vada meglio focalizzata e potenziata l'app Visit Salerno che pure è stata sostenuta dal Comune di Salerno in passato e riteniamo che vadano fornite urgentemente alle strutture ricettive, a tutti i croceristi delle mappe illustrate della città in maniera tale che possano conoscere i principali monumenti, le principali attrazioni della nostra bellissima Salerno. Questo è un territorio, Presidente Ilardi, che attende anche le potenzialità legate all'entrata in funzione dell'aeroporto che è stato argomento di discussione del direttivo di Confu Commercio che si è svolto ieri. Quali sono le decisioni che avete preso? Sì, abbiamo tenuto ieri il direttivo di Federalberghi a Pestum, nella splendida cornice del MEC Pestum Hotel e abbiamo potuto sperimentare quello che conoscevamo, cioè c'è una fortissima aspettativa da parte degli albergatori di tutta la provincia, in particolare dell'area sud per le entrate in funzione dell'aeroporto di Salerno. Noi abbiamo deciso di attivare immediatamente un confronto con la GESAC perché percepiamo che ci sono dei ritardi dal punto di vista della realizzazione dello scalo, ci sembra di capire che non siano stati completati neppure gli espropri, alla GESAC chiederemo il rispetto dei tempi e chiederemo soprattutto un programma operativo. Vogliamo sapere entro la fine di quest'anno quali saranno le compagnie che voleranno da Salerno e verso quali destinazioni, altrimenti chiaramente perderemo altri anni utili per l'entrata in funzione dello scalo e non ce lo possiamo proprio permettere.